Ciao a tutti, scusate l'aspetto sfatto ma siamo alla sera dopo scena e alle solite l'aspetto è quello che è a quest'ora voglio aprirvi due prodotti nuovi, questa volta ve li voglio fare in combinazione intanto li userò insieme, l'idea è fare insieme la recensione e l'idea è aprire questi due shampoo e balsamo di bottega verde che mi sono stati regalati a Natale, scusate se ogni tanto guardo là ma forse sono riuscita a far ripartire la scheda di memoria però controllo perché si potrebbe interrompere la registrazione e ho il riflesso del retro della macchina fotografica nella finestra quindi se mi vedete abbassare o si sto guardando se lo specchio mi dice che sta ancora registrando allora, cercando di muoversi, questi sono appunto due prodotti che mi sono stati regalati a Natale sono stati regalati da una signora che è mia amica e sono di bottega verde e li ha comprati perché la signora del negozio di bottega verde li ha consigliati per i capelli tinti come i miei sono balsamo crema e shampoo, ha l'olio di noce e frutti rossi per capelli colorati e con mesh c'è scritto su entrambi con olio di noce brasiliana e frutti rossi colore prolungato per lo shampoo, colore ravvivato per il balsamo sono di bottega verde, non ho idea di quanto siano costati ma credo che li troviate tranquillamente sul sito di bottega verde nel caso abbia tempo e me lo ricordi ve li cerco e ve lo metto scritto da qualche parte partiamo dallo shampoo, lo shampoo è innanzitutto 200 millilitri dura 12 mesi dall'apertura e c'è un inci che vi metto e in realtà dietro è scritto tutto in tedesco vabbè comunque no c'è scritto anche nelle altre lingue brava Irene, allora c'è scritto per avere i capelli protetti e brillanti per un colore splendente e luminoso a lungo grazie all'azione combinata dell'olio di noce brasiliana e dei frutti rossi, modo d'uso dopo aver bagnato i capelli versare un po' di prodotto e massaggiare delicatamente fino alla formazione di una soffice schiuma compatta ripetere l'operazione due volte, formula dermatologicamente testata ha come bottiglietta questa qua, quindi insomma vabbè è abbastanza comune ha un buon profumo, non so se sia frutti rossi mi ricorda qualcosa stranamente non so vabbè ci penso e ve lo faccio sapere l'odore a primo acchito è buono non avrei mai detto noce e frutti rossi a dir la verità me lo immaginavo più mirtilloso come odore invece il balsamo ha scritto le stesse cose sono 150 ml, dura 12 mesi dall'apertura c'è un inci e poi c'è scritto per avere capelli morbidi e facili da pettinare l'olio di noce brasiliana e i frutti rossi ravvivano la luminosità del colore dei capelli e i capelli acquistano una nuova vitalità modo d'uso dopo la detenzione con lo shampoo per i capelli colorati distribuire la crema sui capelli umidi e tenere in posta per 2-3 minuti quindi risciacquare abbondantemente formula dermatologicamente testata questo ha la chiusura e immagino che l'odore sia lo stesso la confezione è così, insomma abbastanza standard a tubetto e sì, l'odore è lo stesso dello shampoo mi ricorda tantissimo qualcosa questo odore ma per ora non sono riuscita a capire cosa comunque le voglio usare in combinazione in realtà sto usando ancora il vecchio shampoo che non è ancora finito ce n'è ancora più o meno un terzo della confezione però sarei tentata di interromperlo perché mi sta dando un po' credo di dermatite sulla cute comunque lasciando perdere di quello ve ne parlo un altro video li provo e vi faccio sapere ciao ciao a tutti allora oggi vi voglio parlare di due prodotti finiti che sono lo shampoo e il balsamo che cosa volevo dirvi? allora, li ho usati entrambi sono andati abbastanza di pari passo nel senso che li ho finiti praticamente insieme iniziati praticamente insieme come avevo preventivato che cosa ne penso? allora, questi due prodotti sono uno shampoo e un balsamo che mi sono piaciuti abbastanza barra molto hanno un profumo che non vi so definire non so se è più di noce o di frutti di bosco o che o una combinazione però è un odore che a me è piaciuto veramente molto e rimane sui capelli è un profumo, sì, forse di noce come profumazione poi con una sfumatura un po' dolce e mi è piaciuto perché avevano questa proprietà di rendere i capelli piuttosto setosi piuttosto districati e appunto leggeri mi sono piaciuti veramente molto l'unica cosa che vorrei puntare è il fatto che questi prodotti sono venduti per ravvivare il colore dei capelli mi sono stati regalati a quanto pare proprio per questa proprietà che dovrebbero avere io se posso essere sincera assolutamente non ho notato questo tipo di effetto il mio colore svanisce acchiazze abbastanza velocemente a tratti un po' ovunque insomma un po' comunque più che ovunque e non credo che siano un prodotto che aiuta a tenere di più il colore sui capelli colorati detto questo sono due prodotti mi sono piaciuti molto e che forse anche andrei a ricomprare devo dire la verità perché comunque hanno avuto un buon effetto sui miei capelli che fra l'altro erano un po' sofferenti per uno shampoo precedente di cui vi dovrei aver parlato che appunto aveva fatto una reazione un po' bruttina un po' di dermatite quindi loro usando tutto quanto il periodo di questi due prodotti piano piano i miei capelli si sono insomma la mia pute si è ristabilizzata in un modo normale i capelli erano più disciplinati rispetto a molti altri prodotti che ho provato e niente se avete domande lasciate un commento e non so esattamente il prezzo perché sono stato un regalo ma sono più o meno come quelli di Bottega Verde non sono più o meno sono prodotti di Bottega Verde quindi li trovate tranquillamente sul sito o nei negozi grazie